Adesso vedono, mi faccio il culo nero, siccome mi sono rotto le palle ragazzi ho deciso di usare il trucco del base, in base non so dove si trova, dove c'era il musla in destra della mappa, non ci voglio andarlo a prendere quindi faccio che lo generarlo con i trucchi, vai adesso andiamo, allora, no ragazzi non rubo il caccio perché è troppo facile, quindi voglio rubare quel maledettissimo acido da dentro, che non c'è puntualmente, ma no, ma l'unico palo, l'unico palo, l'unico palo, l'unico palo, l'unico, sì, l'unico palo dentro il gioco, chi va a beccarlo, io, ma porca di quella, ultimo fottutissimo tentativo, ragazzi, adesso rubo un caccio, mi sono rotto le palle, via, allora, allora, non ne voglio sapere niente io, vai, da un, allora, un caccia, un caccia, un caccia, un caccia, un caccia, maledizio, no, il palo, il palo, ragazzi, io non resisto, non riesco a resistere, sì, aprire un portellone con un pugno, non l'ho mai visto farlo, ma è mai con lui, no, il carro, il carro, il carro, il carro, vai, vai dentro no, va bene, va bene anche di qua no, chissone, chissone, chissone vai vai, accelera devi accelerare adesso, devi accelerare adesso ma no, ma vai un gioco orca di quella puttana ma io mi chiedo quel aereo lì sarà costato 50 miliardi di dollari e un carro armato lo distrugge solo per non farmi decollare, ma piuttosto seguitemi e quando mi fermo a riportata non posso volare per sempre, ma non può distruggere un... Madonna santissima, mi sto incazzando con una bestia. Allora, basta, basta, ho chiaro più in tutto, cioè, a parte di beccare pali, ma ho fatto comparire... Nooo, almeno si è rotto un'uomo. Ho fatto comparire il biplano con i trucchi, ho detto, vabbè, potremmo vedere come è in vitale, perché i trucchi non ne ho mai esatti ragazzi, veramente, la prima volta, sono solo per i video, però giusto per far più in fretta, ve lo dico, non ne ho esatti. Ma dai, ma non si alza! Ma cosa ci vuole? La spinta? Vuole uguale una sola cosa per i vecchietti? Sì, poi le macchine bisogna che faccio manovra con un aereo. C'è manovra con un aereo. Sì, ma ti dovresti anche togliere. Porca puttana. Puttana, porca puttana, porca puttana. Ok, allora. Dai, sali. Sali! Ma dai! Ma sei coglione! Ma io mi chiedo, ma la gente è normale? No, 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 non morire! Michael scappa! Madonna, ma la gente è normale, vedi un aereo e gli va addosso, capisco che non è normale vederlo, però dai. Dove cavolo è, buzzard? Ok. Allora, cerchi, cerchi, ho le 1, cerchi, 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 ho le 1, le 2, R1, triangolo, cerchi, triangolo. Allora. Allora. Madonna, santissima. Due aerei. Il primo non sale più. Si ferma davanti la macchina. Il secondo gli va addosso, lo fa esplodere, porca puttana. Andiamo in cima, va. Andiamo verso il sole. No, 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 non ci credo, non ci credo, no, no, non ci sono. Ah, ecco le quelle moto, che pensavo fossero lì sotto. Oh, ma sta fermo, madonna, mi scusi. Mamma. Madonna, ma maciullata. Vabbè. No, no, ragazzi, colgo l'occasione perché ho appena visto una cosa che mi interessa, che ho visto un video dove mi è rimasto tutti quelli. No, 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 ok, non salvo, non salvo, sì, salvo. Ok, no, 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 non salvo più, non salvo perché ragazzi non voglio perdere quello che avevo, non voglio perdere tutti quei soldi e comunque non voglio prendere una moto. Ecco il prossimo attentato. Sarà scendere da Forza Ancudo e arrivare... Ah, vedo la flotta, ci vedo? Ma che cazzo ne ho prendo? Sarà arrivare a Forza Ancudo con Sanchez ragazzi, scendendo dal monte Ciliad. Oh, cazzo, cazzo, non ho scelto il posto migliore. No, c'è schifo in tutto, maledizione. Allora ragazzi, siccome volevo salutarvi, in bellezza ho deciso di fare l'ultimo attentato a Forza Ancudo. L'ultimo attentativo, è proprio no, l'ultimo è stato che chiudo il video. Ed entreremo nel modo più, diciamo, perfetto che esista. E siccome sono un ingegnere io, praticamente entriamo nel modo più facile che esista. Consiste nel parco questo che... Allora, andiamo subito. No, va bene, così. No, niente, 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 niente. No, va bene, come? L'unica macchina veloce che sembrava del... No, c'era anche la RAPGT, vabbè. Io direi di entrare da qui, vado a Forza Ancudo. Sì, va. Uh, il carico, Bob. Va bene. È diventato qua, allora, come si fa? Adesso bisogna scalarsi. No! 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 Non basta l'altezza del super salto! No! Mortacci vostra! Bastardi! Ah, sì che basta, posso farsi? No, non basta, basta il cazzo, basta. È schifo! Andiamo dalla porta, va? Vuole inventare, ragazzi, col super salto, però... Se avessi il più bello, ti puoi entrare saltando dentro a Forza Ancudo, vabbè. Allora, allora, questo si può fare, vabbè, a meno. Questa è il sistema che facciamo cantare in macchina, quindi... Salve. Non gira più la mia macchina. Una coma è dentro Forza Ancudo. Eh, ma che sfiga. Ok. Ragazzi, l'ultima resistenza è la... La migliore deve essere, vai, vai. No! 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 Ma se... ma... Ok. Dai! Dai, 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 sali, Michael, sali, Michael. Bravo, Michael. Bravo, Michael, bravo, bravo, così mi piace. Sì? Bravo, Michael, bravo, bravo. Adesso li distruggo tutti io, questi pezzi di merda, io, questi qua di Forza Ancudo, che credo di essere molto forti. Vai, dammi il cecco, vai, andiamo. Ah, non ce n'è nessuno. Ok, eccolo là. Fa culo il joystick, va. Vero, ragazzi. Ciao, ciao.